Benvenuti a State of the Union, sono Stefan Grob da Bruxelles. Sostenere che il coronavirus abbia oscurato le crisi globali esistenti ma non le abbia eliminate è quasi realtà. Ad esempio in Siria la guerra civile che sta arrivando al suo decimo anno sembra essere stata dimenticata. Oltre 10 milioni di persone hanno ancora bisogno di assistenza umanitaria e quasi lo stesso numero di persone non ha abbastanza da mangiare. L'economia siriana è in rovina e metà della popolazione non ha un lavoro. Alla conferenza internazionale dei donatori questa settimana l'Unione Europea ha impiegato 2 miliardi di euro per questo e il prossimo anno. E l'alto rappresentante per gli affari esteri dell'Unione ha respinto l'argomento secondo cui le sanzioni europee sono state in qualche modo responsabili del caos siriano. Le sanzioni dell'Unione Europea non colpiscono la popolazione civile, non ci sono sanzioni per gli aiuti umanitari e le forniture mediche. Le nostre sanzioni sono rivolte a coloro che stanno opprimendo il popolo siriano, bombardando le strutture sanitarie e scuole che usano armi chimiche. Un paese che non ha promesso aiuti alla Siria è la Russia, che è intervenuta militarmente nel conflitto nel 2015. Ma non è per questo che la Russia è stata in prima pagina questa settimana. C'è stato un referendum piuttosto sorprendente che ha permesso al presidente Vladimir Putin di rimanere al potere fino al 2036, quando avrà 83 anni. Lo ritenete anziano? Bene. Joe Biden avrebbe la stessa età se venisse eletto per un secondo mandato come presidente degli Stati Uniti. Sembra sempre più probabile che Biden vinca a novembre. La cattiva gestione della pandemia, la crisi economica e i casi di razzismo negli Stati Uniti hanno portato a un crollo dei consensi per Donald Trump nei sondaggi. Alcuni addirittura pensano che la chiusura delle frontiere europee per gli americani sia una sorta di vendetta per la forte posizione anti-europea di Trump. Negli Stati Uniti un'America post-Trump sta lentamente venendo alla luce. Uno dei miei sogni è il seguente. Il 20 gennaio del prossimo anno, nel suo primo giorno nell'ufficio Vale, Joe Biden prende la sua penna, abroga tutti e quasi gli ordini esecutivi di Donald Trump che hanno eliminato molte delle cose che Obama aveva fatto provare. Sarebbe bello. Gran parte di ciò che accadrà nei prossimi mesi dipende dal coronavirus negli Stati Uniti e nell'Unione Europea. Nonostante alcuni focolai a livello locale, l'Europa sembra avere sotto controllo la diffusione della pandemia. Detto questo, il virus ha lasciato un segno profondo nei cittadini europei, qualcosa di cui vale la pena parlare. Sono qui con Susie Denninson, membro anziano del Consiglio europeo per le relazioni estere. Dunque, ha scritto un rapporto che è stato appena pubblicato dal Consiglio e sostiene che l'Europa, dopo mesi di crisi da coronavirus, sia uno stato di trauma e che i suoi cittadini si sentano soli e vulnerabili. Quali sono le ragioni? Penso che in primo luogo le ragioni di questo trauma siano davvero lo shock dell'esperienza del coronavirus, che gli europei hanno scoperto che possiamo passare in poche settimane dal negare che il coronavirus sia un problema a un totale lockdown dell'economia, della nostra vita sociale e di tutto quello che facciamo. In primo luogo c'è un senso di delusione nei confronti dei governi nazionali per il modo in cui hanno gestito la crisi e una diffidenza nell'uso degli esperti e delle autorità per giustificare le decisioni politiche sulla crisi. Penso che in secondo luogo vi sia una delusione a livello europeo per quanto riguarda le istituzioni europee e abbiamo assistito a un peggioramento della percezione dell'Unione e il 47% degli intervistati ritiene che in realtà l'Unione sia stata irrilevante in questa crisi. La crisi del coronavirus ha rafforzato il sostegno a una più forte cooperazione europea tra i cittadini? Da ciò che emerge, dalle indagini che abbiamo fatto, penso che questa crisi non abbia rafforzato il sostegno al nazionalismo o il supporto al federalismo europeo, piuttosto in qualche modo ha ridotto le distinzioni tra nazionalismo e internazionalismo. E resta questa situazione, come ho detto, in cui gli europei sono delusi dalle attuali istituzioni. Ma permane la convinzione dell'importanza della cooperazione europea. Per oltre mezzo secolo gli europei sono stati abituati a legami transatlantici molto forti e a un senso di sicurezza comune. Gli europei continuano a fidarsi degli Stati Uniti dopo tre anni e mezzo di Trump? Penso che la risposta in breve debba essere no. Dai nostri dati si può vedere chiaramente che la percezione degli Stati Uniti come alleato è diminuita significativamente durante questa crisi. Quindi se prima della crisi c'erano dubbi sul ruolo degli Stati Uniti guidati da Trump come alleato chiave dell'Europa, ora non ci sono più illusioni da parte dell'Unione. E' tutto per questa edizione, sono Stefan Grob, grazie per essere stati con noi. Godetevi l'estate e state al sicuro. Intendo dire cercate di stare attenti alle temperature record che aumentano notevolmente il rischio di incendi. La stagione è iniziata questa settimana a est di Istanbul, dove i pompieri hanno cercato di spegnere un incendio boschivo. Una truppa televisiva turca ha filmato tutto, compreso un elicottero che si è unito ai pompieri. E questo è quello che è successo. Ha continuato a restare in onda, questo è lo spirito giusto. Ci vediamo la prossima settimana.